Ed eccoci all'episodio 9, per i 10 motivi che tengono le persone lontane dall'arrampicata Posso arrampicare con l'ernia al disco? Per risponderti al meglio a questo interrogativo sto andando dal mio amico osteopata che sicuramente ha più argomenti di me dal punto di vista medico Il disco a questo livello qua si lesiona e il contenuto va fuori, possibilmente schiaccia la fibra e quindi la fibra nervosa comincia a non condurre più bene lo stimolo elettrico e questa è una fibra che porta l'informazione dal cervello alla periferia e raccoglie dalla periferia alla parte centrale quindi è una fibra sia motoria che sensitiva Oggi sono venuto a trovare il mio amico Solkite, osteopata proprio perché io sono 25 anni che insegno l'arrampicata e ho avuto tanti casi di persone che soffrivano e avevano erne al disco, avevano mal di schiena e volevo proprio capire se effettivamente secondo te l'arrampicata, nel senso come ho fatto io tutti questi anni potevo fare male o poteva fare bene? O ho fatto bene o ho fatto male o se no? È un argomento un po' scottante secondo me La risposta credo che sia dipende da come la fai per cui devi sapere che il problema dell'ernia discale è un problema in realtà molto diffuso più dell'80% della popolazione a livello mondiale ha sofferto o soffre di mal di schiena non sempre il mal di schiena è dovuto all'ernia discale Oggi facciamo un po' il focus su quello che è il tema dell'ernia del disco Cosa accade? Si è visto che moltissime persone, anche non sapendo questo, hanno un'ernia discale quindi è molto probabile che se tu non hai mai avuto mal di schiena come è accaduto anche a me abbiamo in realtà la presenza di una o più ernie discali questo non significa che la nostra colonna vertebrale non possa funzionare correttamente una dimostrazione di questo è stata ottenuta tramite un esperimento sono state prese una serie di persone che non avevano mai sofferto di mal di schiena è stata fatta una risonanza magnetica a tutte di età differente compreso tra ragazzini di 12 anni fino alle persone di 70 anni e si è visto che anche chi non aveva mai avuto e manifestato problemi di schiena presentava delle ernie discali questo significa che avere l'ernia del disco e avere il mal di schiena non è esattamente la stessa cosa quindi ci sono tantissime persone, io ho lavorato tantissimo con degli sportivi di alto livello a livello nazionale, italiano o mondiale che possono continuare oggi a praticare la loro attività anche agonistica, anche professionistica nonostante la presenza di ernie discali questo è possibile se vengono ottenuti sostanzialmente due obiettivi che sono la mobilità delle articolazioni della colonna vertebrale la corretta mobilità e la corretta stabilità quindi nel momento in cui tu con la tua attività di arrampicata riesci a ottenere questi due obiettivi stabilità e mobilità che apparentemente sono in conflitto l'una con l'altra e in realtà tu lo sai benissimo come sono due elementi fondamentali anche nell'arrampicata devi essere flessibile, mobile per poterti adattare i vari passaggi contemporaneamente ogni passaggio ha bisogno di avere una propria stabilità quindi se riusciamo a ottenere questi due obiettivi ecco che l'arrampicata può essere tranquillamente uno sport avvicinabile e affrontabile anche a livello professionistico e agonistico invece per quanto riguarda il fatto che quello che pensavo io è che comunque lavorando non a pieno carico proprio perché siamo in sospensione quando arrampichiamo diciamo che qui si apre un altro pianeta ossia per l'esperienza che ho fatto personalmente l'arrampicata grazie a te che mi hai un po' introdotto quindi l'esperienza diretta è stata questa che l'arrampicata può essere fatta a tantissimi livelli e dipende che cose vogliamo ottenere come obiettivo finale e tu mi hai insegnato tramite gli esercizi che abbiamo fatto insieme che tantissime attività propedeutiche proprio all'arrampicata quelle di base sono funzionali a proprio a ottenere qui due obiettivi per la schiena quindi recupero della mobilità e recupero della stabilità in più proprio per il fatto che quando stai facendo la posizione di arrampicata di approccio alla parete la corona vertebrale non supporta tutto il peso ecco che abbiamo una condizione favorevole proprio per la salute della corona vertebrale che va da una parte a rinforzare i muscoli dall'altra parte senza sovraccaricare le articolazioni e il disco intervertebrale che in questo caso proprio nel caso dell'ernia al disco è uno dei problemi principali e quindi diciamo che addirittura possiamo dire che quella parte di propedeutica all'arrampicata quello che so che ogni tanto chiami cataclime adesso mi spiegherai tu di che cosa si tratta perché lì ho visto un mondo che si apre è molto molto interessante anche dal mio punto di vista perché io mi occupo solitamente di manipolare la colonna, la struttura e dopo ho sempre bisogno di qualcuno che porti la persona a recuperare il movimento ecco che credo che proprio quel tipo di attività sia funzionale a recuperare, a migliorare la salute della colonna vertebrale anche in presenza dell'ernia discale invece io ho già introdotto per esempio che nell'arrampicata diciamo bisogna evitare quantomeno comunque le cadute proprio per non andare a sovraccaricare le articolazioni ma hai anche altre controindicazioni altri movimenti che bisognerebbe stare attenti di fare o non fare a cortezze per quanto riguarda la colonna vertebrale nello specifico e la zona lombare tutti i movimenti in torsione sono i movimenti più potenzialmente pericolosi non significa che noi non possiamo fare movimenti in torsione con la nostra colonna perché siamo fatti per fare anche questo tipo di movimento tuttavia bisogna fare proprio attenzione a come alcuni movimenti vengono progettati ecco che se io mi trovo in situazione di pericolo di improvviso stabilire una caduta non posso controllare tutti questi parametri però tu mi insegni tutte le attrezzature e tutti gli accorgimenti che siano per tutelarti nel caso in cui invece tutto stia andando correttamente quindi sto seguendo proprio il processo di arrampicata come tu lo insegni ecco che ho visto come c'è un'estrema attenzione proprio ai movimenti di torsione che non sono funzionali perché devo mantenere sempre una certa posizione una certa relazione con la parete che entra in relazione con me conseguentemente credo che la cosa che dobbiamo fare proprio attenzione è questa controllare i movimenti in torsione soprattutto sulla zona lombare diciamo la parola d'ordine comunque sempre è il controllo cioè disciplinare il movimento essere a fare e creare gestire mentalmente i movimenti sempre rendendoli consapevoli la chiave è proprio la consapevolezza del proprio corpo quindi io posso utilizzare varie strade per diventare consapevole del mio corpo della posizione che assume nello spazio il controllo dei miei gruppi muscolari questa della arrampicata per uno che ha la passione di fare questa attività sia indoor che outdoor è una cosa fantastica perché contemporaneamente entro in relazione con le altre persone entro in relazione con me stesso entro in relazione con l'ambiente esterno e faccio un'attività che se fatta correttamente con una buona guida potrebbe essere addirittura propedeutica e una soluzione potenzialmente per il mio mal di schiena se causato in questo caso da un'ernia discale che non è assolutamente una delle controindicazioni all'attività una volta sai che tantissimi medici o stai fermo o l'altra cosa era il nuoto ora tu capisci come il nuoto voglio dire tutto e niente immagina Phelps che si allena o la Pellegrini ha un'attività intensissima io credo che una persona con il mal di schiena che fa quel tipo di attività si devasta completamente quindi l'acqua è un elemento importante per chi soffre di lombagia perché? perché permette di fare attività rinforzare la colonna e aumentare la mobilità quindi i due principi che avevamo visto prima quindi la flessibilità della struttura e la stabilità della struttura in un ambiente che è l'acqua che mi toglie un po' il peso quindi quello è l'ambiente ma dipende sempre che cosa ci fai come le fai contestualmente stiamo parlando adesso dell'arrampicata ed è una situazione molto spesso in assenza di gravità a scarico completo quindi riproduciamo l'effetto dell'acqua in un altro contesto che è quello dell'attrazione invece che anche l'attrazione è uno degli elementi fondamentali che vengono utilizzati in termini terapeutici proprio per il mal di schiena le trazioni meccaniche la panca inversione sono degli elementi proprio funzionali a questo quindi anche l'arrampicata racchiude in sé degli elementi che se ben utilizzati possono essere funzionali al ricupero della problematica dell'ernia discale perfetto grazie grazie il bacio lo tagliamo perché non è vero ciao grazie grazie per l'ospital vieni qua ecco grazie per l'opportunità che mi hai concesso di parlare in pubblico vediamo se questa cosa la tagli e la tieni grazie per l'opportunità di aver parlato di una cosa che mi sta a cuore che è proprio la salute della colonna vertebrale con questo piccolo incontro è nata una collaborazione che verrà presto nascere una miniserie dove tratteremo nello specifico dal punto di vista sia medio che biomeccanico gli esercizi di cataclime alla prossima iscrivetevi al canale o di qua iscrivetevi al canale